Che inseguiamo quel cartello del terzo polo che dovrebbe avviarci alle prossime elezioni. Il presidente della provincia Eugenio Dorsi introduce così il discorso che lo porta a presentare le novità all'interno della sua giunta. Entrano infatti due nuovi soggetti, l'agrigentino Giovannino Cera dell'Udc e l'icatese Giuseppe Montana di Forza del Sud. Presenze che rafforzano il progetto di quella che lo stesso Dorsi ha definito un'aggiunta prettamente politica, basata su alleanze che dovrebbero portarlo alla ricandidatura. Lascia l'amministrazione provinciale Paolo Felice e sarebbero pronti al passo indietro anche due attuali assessori, Lillo Volpe e Nicolina Marchese. Un posto in giunta infatti sarebbe riservato a future libertà, secondo un accordo ormai quasi raggiunto tra Dorsi e Luigi Gentile. Vorrei sottolineare semplicemente una cosa, noi abbiamo fatto questa giunta del terzo polo con l'accordo del Fri, con l'accordo dell'Udc, con l'accordo di tutte quelle componenti che si trovano presenti alla regione siciliana. Un altro posto sarebbe anche destinato a un altro assessore, questa volta proveniente dalle fila dei Lealisti, il movimento fondato proprio dallo stesso Presidente della provincia, che però conferma la sua appartenenza e fedeltà al Movimento per l'Autonomia. Noi sicuramente saremo sempre dentro l'MPA e saremo con l'MPA a testa alta, perché riteniamo che a Palermo Lombardo ha fatto un lavoro notevolissimo e anche qui nella provincia questo lavoro è stato seguito e fatto con grande dignità e onestà.